La principessa Kate Middleton è riapparsa in pubblico al torneo di Wimbledon con un vestito viola sgargiante, ma il video sofferente è virale Anche grazie ai tabloid inglesi abbiamo potuto seguire una delle più uniche che rare uscite della principessa Kate Middleton da Buckingham Palace da quando è malata di cancro Dopo il video annuncio che spiegava al pubblico la malattia, la situazione non sembra essere poi così migliorata, Kate ha subito un intervento, ma la chemioterapia preventiva sembra più invasiva del dovuto Sono ormai mesi che la Middleton è costretta a casa, con alti e bassi e fino a fine anno l'agenda è vuota, cancellati tutti gli impegni fino a data da destinarsi All'inizio sembrava poter chiudere il capitolo già ad aprile e invece le terapie sono andate avanti fino ad oggi e non si sa per quanto altro tempo Proprio questo prolungamento della terapia sanitaria ha creato un campanello d'allarme negli esperti della corona inglese A Palazzo vogliono nascondere la verità per non creare panico e allarmismo? Quali sono le reali condizioni di salute della principessa? Kate Middleton, il video diventa virale e crea dubbi, la verità sulla principessa Secondo alcuni medici intervistati, la chemioterapia preventiva la direbbe lunga sulla situazione, non si tratterebbe di un cancro al primo stadio, bensì di un cancro più avanzato Per quanto riguarda la tipologia di cancro, purtroppo, con le poche informazioni ricevute, i medici continuano ad avere uno spettro di riferimento troppo grande Risulta impossibile fare supposizioni valide su quale tipo di cancro si sia accamito sulla principessa, ma con molte probabilità potrebbe essere all'apparato riproduttore, NDR Facendo riferimento all'operazione all'addome A luglio, la Middleton sarebbe ancora costretta per diversi giorni a letto, seguendo gli alti e bassi delle reazioni avverse della chemio A quanto pare, infatti, la chemioterapia che sta facendo sarebbe molto forte e crea alti e bassi a livello di salute Nausee, dolori e stanchezza, sono solo alcuni dei sintomi che la costringono a letto Nei giorni scorsi, però, Kate ha sorpreso tutti La sua presenza al torneo di Wimbledon non era affatto scontata, anzi, fino all'ultimo anche gli stessi tabloid inglesi avevano dichiarato che sarebbe stato difficile vederla, e invece la principessa ha stupito tutti Si è presentata in forma smagliante, in viola, e non è di certo passata inosservata In realtà l'aspetto fisico avrebbe creato false speranze.Le indiscrezioni sulle sue condizioni di salute non sono positive, ma nonostante ciò ha cercato di sorridere e salutare tutti Sul web, però, ha preso sempre più spazio un video che inquadra il primo piano di Kate Middleton, in un'espressione sofferente e preoccupata Si è così aperto il caso, era triste per la partita o per le sue condizioni di salute? Stava provando dolore? Il video è troppo corto per fare con letture specifiche, ma ha fatto sicuramente preoccupare i fan